Sono Alessandra Runca, sono un'ingegnera biomedica, ho studiato presso l'Università di Pisa sia in trennale che in magistrale, mentre adesso ho intrapreso un percorso di dottorato presso il Politecnico di Torino. Mi sono sia per la tesi trennale e magistrale che per il percorso di dottorato inserita nell'ambito della diagnostica clinica. In particolare per la tesi ho portato avanti uno studio sull'analisi del passo per la diagnosi di malattie neuromuscolari, mentre adesso mi sono spostata sull'imaging a microonde per la mammografia. Per prima cosa ho riconosciuto subito l'importanza di questa iniziativa nell'ambito della parità di genere, nel settore delle discipline STEM, in particolare in quello ingegneristico. Ho trovato dei punti d'incontro fra la mia tesi e la tematica del bando, ovviamente, che è estremamente attuale, e quindi ho deciso di provare a valorizzare il lavoro di tesi, oltre al suo fine principale, che è quello di conseguire la laurea, ma anche appunto a dargli un ulteriore valore di conoscimento e farlo conoscere, perché comunque ad ognuna di noi impegna diverso lavoro e diversi mesi. Allora, sicuramente di farlo con compassione e di non farsi scoraggiare da eventuali difficoltà che credo siano intrinseche ad una scelta di questo tipo. Inoltre, sicuramente di non farsi spaventare da eventuali pregiudizi che possono derivare dalla società, ma a volte anche dalla famiglia, perché ovviamente le nostre capacità non sono definite dal genere.